ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un tissù ma non un tissù qualsiasi il tissù sistar 1000 è il suo nome da 40 mm finalmente perché è uscito a marzo è uscito marzo di quest'anno non ci avevo ancora messo le mani sopra perché è un best seller cioè l'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici che me lo ha messo a disposizione no perché parte un ufficiale del canale la gioielleria quindi me lo ha messo a disposizione andate da lui che li vende detta papale papale non riuscivo a metterci mani sopra perché come arrivavano erano già ordinati preordinati e partivano già per l'acquirente per l'appassionato che li riceveva quindi sono riuscito ora in questi giorni a metterci le mani sopra e a portarlo a casa per fare una panoramica per studiarlo un pochino e sono contento di averlo fatto perché è un bello orologio mi piace mi è sempre piaciuto il sistar nelle altre versioni da 43 mm tutte quelle che sono esistite finora anzi era uscito già 40 mm al quarto no però non vale come come misura perché capirete benissimo che la cassa è differente cioè le misure degli spessori per un automatico un quarto sono differenti quindi la cassa è ridisegnata completamente non è la stessa ecco sono contento di averlo portato e ho scelto quello il banalissimo nero come piace a me no perché esiste in varie configurazioni però al momento sono 4 5 le configurazioni disponibili tra colore pvd pvd oro poi vedrete che man mano che si va avanti usciranno altre configurazioni ma io rimango fedele a quel al nero al grigio al blu a questi colori qua no poi intanto magari bilancio in qualche cosa di differente ma non è questo il caso qua sul cane ho portato quello nero che secondo me è quello un po più neutro quello più adatto a tutti no anche per far vedere un orologio che proprio che può piacere alla maggior parte delle persone no se portano giallo già metà del degli appassionati dice no non fa per me e magari non non staremmeno a vedere i punti positivi di questo orologio a proposito dei punti positivi vi ricordo che poi io al termine della panoramica elenco i limiti dell'orologio i punti deboli no cerco di non dirli durante la panoramica interna al centro mi trattengo cerco di essere più neutro possibile per poi snocciolarli alla fine che fa un pochino più riassunto finale diciamo così ora vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo long jean legend iver da 39 mm con il suo bracciale a chicchi di riso per un certo periodo l'ho indossato con un cinturino adesso gli ho rimesso il suo bracciale calibro l888 certificato simpatico e ci piace tanto questo orologio doppia corona bag interna adesso giriamo la camera diamo uno sguardello al tiso sister mille perché mille sono i piedi quindi e 300 metri mille e poi ci troviamo qua come al solito per le considerazioni finali mi raccomando diamo uno sguardo alle dimensioni effettive misurate sul campo diametro cassa 40 mm spessore 12.8 ingombro trasversale al polso 45.7 e interasseanza da 20 mm misure che lasciano intendere una indossabilità eccellente per qualsiasi circonferenza polso personalmente ritengo che i 40 mm siano adatti a tutti è difficile che possano sfigurare su polsi grandi e sono adattissimi a chi ha un polso contenuto occorre segnalare che i 40 mm sono misurati alla ghiera che risulta leggermente sporgente misurando il corpo cassa sottostante si ottiene invece una misura di 38 mm tra i vari parametri quello che risulta meno interessante forse lo spessore 12.8 mm non sono pochi anche se occorre tenere presente che stiamo parlando di 300 metri di impermeabilità e bisognerebbe capire quanto possa incidere lo spessore maggiorato delle pareti della cassa in ogni caso come detto l'indossabilità è eccellente anche sul mio polso da 19 cm di circonferenza personalmente non faccio differenza e dai 39 e 45 mm riesco ad indossarli senza problemi insomma riesco a trovare la specifica collocazione di un orologio nel ventaglio degli orologi presenti nella mia collezione per quanto riguarda il design cassa ci troviamo di fronte ad un'architettura alquanto particolare o meglio niente di eclatante a riguardo del design generale in quanto si tratta di forme piuttosto standard se non che proprio a causa dello strabordare della ghiera guardando dall'alto ci appagnano solamente le anse corte e tronche osservandolo di lato possiamo invece notare una insolita finitura sabbiata realizzata in negativo una piacevole tridimensionalità e un evidente contrasto tra opaco interno e bordi in rilievo lucidati a specchio questa è sicuramente la soluzione estetica che caratterizza l'intero corpo cassa e a parer mio è decisamente indovinata non poteva mancare la corona di carica vite circondata dalle spallette di protezione a bocca di pacman consentitemi il termine lunghe quanto basta per contrastare il movimento laterale in caso di urti ma non così invadenti da appesantire il design se la corona è a vite altrettanto è il fondello il classico trasparente con vetro minerale che mette in mostra il calibro sottostante l'arcinoto powermatico 80 che qui vediamo nella sua versione a 23 rubini si tratta della versione più economica del movimento con ancora e ruota scappamento in materiale sintetico e con finiture di lavorazione praticamente assenti un calibro spartano che in fase di revisione ufficiale viene sostituito con uno nuovo nota positiva è che la regolazione di fabbrica al laser è particolarmente accurata e grazie alla spirale libera a regolazione inerziale restituisce statisticamente una precisione di marcia che fa invidia ad orologi più blasonati per intenderci è la stessa versione utilizzata nel best seller prx ma torniamo al lato a qui possiamo in primis apprezzare la normalità dell'aspetto un insieme di elementi che non mira a stupire per audacia o per soluzioni estetiche originali e che vuole rimanere entro certi canoni estetici insomma fattezze da piaccione per non scontentare la maggioranza e per acchiappare più appassionati possibili e devo dire che ci riesce gli ingredienti sono sempre soliti anche rispetto alle precedenti versioni del sister ghiera unidirezionale a 120 scatti indici a bicchierino marker a triangolo datario ad ore 6 e quadrante nero se poi andiamo a studiarli un po più da vicino possiamo aggiungere che la ghiera è ottimamente manovrabile grazie allo sbalzo esterno rispetto alla cassa e che il quadrante non è poi così nero come appare intanto gode di una finitura superficiale a micro incisioni verticali che lo ravviva particolarmente inoltre è presente una tonalità fumè che lo va a schiarire in determinati punti non la solita accentuata finitura degradé ma qualcosa di più delicato in definitiva si tratta di un grigio scuro che cambia luminosità in base all'angolazione visiva una piacevole soluzione che altresì non va ad inquinare la leggibilità generale del quadrante stesso gli accenti in superluminova su fondo scuro lo rendono ottimamente comprensibile in ogni situazione superluminova che è circondato da una cornice metallica lucida sia sugli indici che sulle sfere a matita e proprio grazie a questa soluzione si ottiene quel pregevole scintillio dovuto al riflesso della luce una particolarità che ritengo sia sempre apprezzabile alla vista di un appassionato inutile sottolineare che si tratta di indici applicati la profondità degli accenti è ben visibile osservando il quadrante di tre quarti insomma un dial politicamente corretto che per contro non commette alcun errore datario ad ore 6 sfere a matita ben dimensionate simmetrico verticalmente e ben leggibile nel complesso anche in assenza di luce laddove sia gli elementi sul quadrante che il dot sulla ghiera ci vanno a restituire una luminescenza sufficiente a poter leggere l'orario e a calcolare il tempo di immersione il bracciale buono in stile oyster a tre maglie indipendenti vede quella centrale che va a riprendere la lucidatura specchio del lato carur lasciando il compito a quelle laterali di replicare la satinatura del dorso anse nulla da cipire sulla qualità e sullo spessore dell'acciaio utilizzato ivi compreso quello impiegato per la chiusura cerniera interna ben dimensionata e doppia chiusura di sicurezza la prima con i due pulsantini e la seconda con la clip di riporto da segnalare poi la presenza dello sgancio rapido spring bars utile per sostituire il bracciale nel momento in cui si desidera un cinturino possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali partiamo subito con i limiti dell'orologio con i limiti con i punti deboli con le simpatiche considerazioni negative se così possiamo dire allora ecco una cosa che non ho detto è che l'inserto ghiera è in vetro minerale l'inserto ghiera è ricoperto da vetro minerale si graffierà non si graffierà sapete bene che il vetro minerale è un pochino più graffiabile rispetto al vetro zaffero di cui è fatto il trasparente principale quindi potrebbe essere un punto negativo da tenere presente altro punto negativo diciamo il calibro il calibro è quello il modello base del powermatic no del dell'eta a 80 ore di riserva di carica è lo stesso calibro del prx di prx è nata ruba per me non è un problema nel senso che stiamo anche parlando di un orologio che costa 795 euro di listino meno di un qualsiasi micro brand messo lì ci mettete anche un po di sconto insomma un tissu 795 meno da qualche parte vanno al risparmio il calibro sicuramente in grande serie fatto così 23 rubini scappamento sintetico è un po un minus ma tante altri punti deboli qua quali possono essere il lucido del bracciale e diciamo anche lucido del bracciale la maglia centrale lucida ma come ho spesso detto ci sta anche che sia un pochino così elegantone simpatico e poi forse la clasp con questo design un pochino così da datato dire è datato ma niente di che casca di buona fattura però è un po visto e rivisto due zebedee così a forza vedere sta chiusura qualche parola sapete come rimane lì dietro non c'è nemmeno la prolunga sì che c'è no non c'è la prolungata se non lo dicevo non c'è la prolunga da mettere sopra gli indumenti ma quello che cavolo ce ne frega la regolazione coi forellini va bene così baciare c'è lo sgancio rapido positivo poi il quadrante bello è proprio bello a vedersi c'è un orologio che pure essendo quasi banale normale è bello vedersi è proprio l'orologio che tutti vorrebbero avere al polso da 40 mm ora il problema quale molti diranno è uscito anche il mido da 39 e diventano due concorrenti ma nemmeno tanto è il mido c'è il calibro derivato dell'età 28 92 dentro il mido ocean sta da 39 mm quindi magari a livello di calibro quello è migliore a livello di indossabilità questo la ghiera da 40 e che la casa a 38 sono molto simili però questo qua costa 795 ripeto cioè avete un tisso marchio blasonato con l'assistenza di tisso che è dedicata cioè c'è qualcosa che non va mandano a casa te lo pigliano te lo riparano tutto quello che vuoi 795 secondo me ripeto è un best buy è giusto che sia così che va per la maggiore io poi come tra tutti i quadranti forse forse questo a parte questo qua nero grigio ci sarebbe anche quello blu che tanto mi piace però al momento quello arriva con il cinturino in cauccio non ancora col bracciale capirete che magari lo chiedete al buon giacomo vi fa arrivare quello blu col bracciale è capace di farlo l'ha fatto anche con altri orologi quindi non vedo perché non dovrebbe farlo qua comunque l'orologio ragazzi è promosso come poteva essere soprattutto per il rapporto qualità prezzo io non parlo mai di prezzi ma ripeto ancora 795 euro un tisso diver 300 metri tanta roba io vi ho messo di tutte le caratteristiche gli ingredienti le foto le descrizioni vi ho letto l'orologio no faccio altro che leggervi l'orologio e voi decidete poi se può essere uno dei vostri orologi papabili per la prossima estate perché ormai siamo agli sgoccioli però decidete voi io a me non me ne viene niente ragazzi vi ringrazio vi ricordo gli appuntamenti fissi dunque che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao